La prima volta che mi sono accorto dell'esistenza di Ugo Tognazzi è stato nel 1982, che ero bambino, quando quattro pazzi entrarono a Piazza dei Miracoli a Pisa e la mise la soccuata perché volevano raddrizzare la Torre di Pisa e quindi anche i pisani subirono la sua tapioca supercazzola. Beh, Tognazzi è un grandissimo regista, un grandissimo attore, un grandissimo padre e anche un grandissimo cuoco. L'unico rammarico è non averlo conosciuto perché io sono convinto che ci sarei andato molto d'accordo. Viva Ugo!